Ciao, sono Serenella, arrivo da San Basilio, ho 54 anni, a ottobre del 2018 ho fatto l'intervento per denti fissi qui alla Boero. Sono quindi una paziente della Boero e mi sono trovata benissimo, sto meglio di prima. Io prima dell'intervento avevo problemi di masticazione e oltre alla masticazione anche la vergogna di farmi vedere, sorridere. Avevo perso il sorriso, cercavo di nascondere ciò che non volevo che mi vedessero. Quindi mi sono rivolta alla Boero tramite conoscenze, tramite Facebook e tramite il mio compaesano. E mi sono trovata subito bene, mi hanno spiegato cosa avrebbero dovuto farmi e poi pian piano abbiamo affrontato tutto assieme. Il fatto che dopo 24 ore potevo sorridere e avere i denti per me è stata un'emozione bellissima. Bellissima perché ho riacquistato anche un po' di serenità, mi sono ritrovata con bocca ai denti senza nessuno dolore. Anche se sembra una cosa, non sembra vera, ecco sembra, è una cosa incredula che tutti, molte persone non credono ancora e tuttora mi dicono è possibile. E invece no, è proprio così, proprio così. Mi è piaciuto tanto l'accoglienza che ho avuto, mi hanno trattato benissimo, come se mi avessero conosciuto da sempre. Mi sono sentita coccolata, mi sono sentita in una famiglia, in un'altra famiglia. Infatti ringrazio tutti, tutti, proprio tutti, da partire dal dottor Boero a tutti, proprio tutti, dalle assistenti. Tutte dolcissime. Benefici per i denti fissi in 24 ore, i primi sorridere e poi anche nel mangiare. Gustare il cibo perché con uno scheletrato in bocca il gusto di cibi io non lo sentivo più. E infatti mi gustavo le cose proprio bene, 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 bene. La cosa che ricordo che mi piaceva era la cioccolata. Mangiare la cioccolata e sentire proprio il sapore nel palato, in tutta la bocca. Cosa che non mi capitava da vent'anni e più. Ed è stato bellissimo anche quello. Sembrano fesserie per molte persone, ma per chi ha questi problemi come me, come tanti altri, anche peggio del mio, è una cosa troppo bella, troppo bella poter sentire di nuovo il gusto del mangiare. La clinica Boero l'ho consigliata, appena fatto, e la continuerò a consigliare. Perché anzi difendo e dico le cose come stanno. Perché molti, come ho detto nella prima intervista che avevo fatto, non ci credevano a questo fatto, che non c'era nessun dolore per fare questi impianti. Invece no, è così. E la consiglio, la consiglio proprio a tutti. A chi mi chiede do sempre dei buoni consigli e di farsi una scapattina proprio da voi. Grazie, grazie per tutto, per tutto. Grazie.